ciao a tutti continuiamo con le proprietà dei livelli di testo oggi ci occupiamo dei selettori che come vedremo sono il vero e proprio motore delle animazioni sui karate del testo benissimo un livello di testo l'abbiamo già pronto veniamo qui nella timeline apriamo il livello selezioniamo text e come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti aggiungiamo una proprietà dal menu animate e aggiungiamo ad esempio la proprietà scale immediatamente all'interno di text viene creato un contenitore che si chiama animator 1 all'interno del quale troviamo la proprietà scala e a fianco la proprietà scala c'è il selettore range selector quindi il selettore viene automaticamente creato nel momento in cui aggiungiamo una proprietà dal menu animate bene adesso prima di aprire le proprietà del selettore range abbassiamo un poco il valore di scale magari la portiamo più o meno al 50 per cento così adesso zoomiamo un poco nel monitor della composizione così vediamo meglio i caratteri e veniamo qui nella timeline finalmente apriamo il contenitore di range selector e vediamo come funzionano le sue proprietà allora il range selector decide qual è l'intervallo all'interno del quale la proprietà scale funziona praticamente dove comincia a funzionare e dove smette di funzionare tutto dipende dalla posizione dei parametri start ed end in particolare start è questa barra verticale rossa che sta all'inizio del testo e l'end è questa seconda barra che sta alla fine del testo ma noi possiamo spostare queste due barre agendo sui parametri appunto start ed end proviamo a aumentare il parametro start per esempio fino a 30 per cento adesso come vedete la proprietà scale funziona soltanto dal 30 per cento del testo fino in fondo e se noi diminuiamo anche la proprietà end da 100 la portiamo per esempio a 70 per cento la stessa cosa cioè la proprietà scala funziona dal 30 per cento a 70 per cento del testo mentre prima e dopo il testo è tornato alla sua grandezza originale quindi a seconda di come noi impostiamo i due parametri start ed end all'interno di questo intervallo la proprietà scala funziona fuori dall'intervallo invece la proprietà scala non funziona il parametro offset invece sposta contemporaneamente sia lo start sia l'end proviamo se diminuisco la proprietà offset vedete che entrambe le barre verticali si spostano verso sinistra e posso andare fino a un minimo di meno 100 per cento se invece l'aumento le due barre si spostano verso destra e posso arrivare un massimo di 100 per cento riportiamo adesso l'offset a zero magari abbassiamo ancora un po il valore di scale in modo tale che la differenza dentro fuori l'intervallo sia ancora più pronunciata però adesso vediamo che esistono altri modi di usare questo intervallo impostato dalle proprietà start ed end apriamo un attimo le proprietà che stanno dentro il contenitore advanced e concentriamoci sul parametro shape che al momento è impostato sulla voce square se noi invece all'interno di questa lista scegliamo la voce ramp up vedete che adesso l'intervallo del selettore funziona in modo diverso la proprietà scale al 18 per cento funziona dopo l'end e non funziona prima dello start e tra l'inizio e la fine dell'intervallo c'è l'interpolazione tra il valore originale e il valore finale impostato dalla proprietà scale vedete che dalla i alla p c'è un graduale ridimensionamento delle lettere proviamo anche le altre opzioni dopo ramp up abbiamo ramp down che funziona esattamente al contrario questa volta la proprietà scale agisce prima del parametro start e tra start ed end c'è di nuovo l'interpolazione che in questo caso funziona al contrario tal piccolo ci riporta al grande proviamo anche le altre tre triangle triangle funziona in un altro modo ancora cioè funziona soltanto esattamente al centro dell'intervallo infatti le lettere che si trovano qui al centro raggiungono la scala 18 per cento mentre le altre hanno un'interpolazione sia verso destra sia verso sinistra e riportano la grandezza originale andiamo avanti proviamo anche la voce round che è molto simile a triangolo però come vedete è l'interpolazione che è un po' diversa e la stessa cosa anche per l'ultima opzione smooth si ha la stessa impostazione con la scala che funziona al centro mentre verso sinistra e verso destra sia interpolazione un'interpolazione anche in questo caso diversa benissimo ora fra tutte queste impostazioni prenderemo in considerazione soltanto le prime due square e ramp up che sono sicuramente le più usate per fare animazioni sui caratteri di testo e faremo quindi un'animazione usando l'impostazione square e una usando l'impostazione ramp up incominciamo a rimettere quindi la prima impostazione square innanzitutto reimpostiamo il valore della scala e mettiamolo questa volta a 0 per cento quindi portiamo valore da 18 a 0 per cento a questo punto le lettere che si trovano all'interno dell'intervallo non si vedono più perché hanno grandezza 0 benissimo riportiamo il parametro and quello di destra al suo valore massimo cioè fino all'ultima lettera e portiamo anche il parametro start al suo minimo cioè al carattere iniziale a questo punto tutte quante le lettere siccome si trovano all'interno dell'intervallo hanno grandezza 0 benissimo adesso prendiamo il cursore lo portiamo al tempo 0 e accendiamo l'orologio del margine sinistro dell'intervallo cioè start avanziamo nella timeline e a questo punto portiamo al margine sinistro dell'intervallo fino al massimo cioè a 100 per cento lo portiamo esattamente nella stessa posizione di end a questo punto l'intervallo è nullo e quindi nessuna delle lettere del testo ha grandezza zero tutte quante le lettere tornano alla loro grandezza originale quindi facciamo finalmente una preview benissimo quindi l'animazione come ben potete notare non viene fatta sulla proprietà scale ma in questo caso sul margine sinistro dell'intervallo del selettore quindi è il selettore che viene animato e non la proprietà benissimo adesso faremo un'animazione usando la seconda opzione ramp up però prima eliminiamo l'animazione fatta su start e torniamo nella situazione originale quindi spegniamo l'orologio di start eliminiamo i keyframe e riportiamo di nuovo lo start a 0 per cento adesso impostiamo la forma dell'intervallo da square a ramp up immediatamente funziona come abbiamo visto prima all'interno dell'intervallo c'è soltanto l'interpolazione la prima cosa che impostiamo è la larghezza di questo intervallo cioè quanto vogliamo che sia larga l'interpolazione tra l'inizio e la fine quindi prendendo il parametro start avanziamo un poco a destra e magari arriviamo circa a metà al 50 per cento in modo tale che l'interpolazione si allunga come metà del testo e in questo caso anziché animare il parametro start come abbiamo fatto nel caso di square nel caso di ramp up animeremo invece il parametro offset lo animeremo da meno 100 per cento a più 100 per cento praticamente noi spostiamo l'intervallo all'interno del quale c'è l'interpolazione quindi prendiamo il cursore portiamolo al tempo zero e in questo momento portiamo come dicevamo prima l'offset al meno 100 per cento quindi accendiamo l'orologio anche in questo caso dopo circa due secondi portiamo l'offset al massimo che è il 100 per cento a questo punto tutte le lettere si trovano prima del margine start e quindi hanno la loro grandezza originale proviamo a fare una preview benissimo quindi anche in questo caso l'animazione non viene fatta sulla proprietà scala ma usando i parametri del selettore e in questo caso particolare abbiamo visto l'offset e non lo start e in più rispetto a prima possiamo aumentare o diminuire l'intervallo dell'interpolazione se per esempio noi aumentiamo lo start lo portiamo un valore vicino al cento per cento intorno ai 90 per esempio e facciamo una preview abbiamo un'animazione molto simile a quella che avevamo ottenuto quando usavamo l'impostazione square e se invece diminuiamo lo start e possiamo arrivare fino a un minimo di zero per cento possiamo avere invece un intervallo di interpolazione molto più lungo e quindi un'animazione molto più morbida quindi se dovessimo scegliere tra square e ramp up è sicuramente sempre meglio utilizzare questa seconda impostazione perché in ogni caso anche con questa seconda impostazione riusciamo a fare un'animazione simile a quella di square e poi abbiamo molte più possibilità di variare l'animazione benissimo adesso facciamo altri esempi di animazione usando però delle altre proprietà ma in ogni caso da adesso in poi useremo sempre l'opzione ramp up benissimo incominciamo ad esempio a fare un'animazione simile a questa però con la proprietà position però prima di cominciare eliminiamo del tutto l'animator 1 lo selezioniamo lo cancelliamo in modo tale da ripetere un po tutte quante le operazioni fatte fin qua allora incominciamo a selezionare text andiamo nel menu animate e come dicevo prima questa volta aggiungiamo la proprietà position e questa volta potremmo far sì che all'inizio le lettere si trovino tutte quante fuori qua in alto e poi una alla volta scendono verso il basso e si riposizionano nella posizione originale quindi usiamo il secondo parametro di questa position qua e spostiamo tutte le lettere fuori dalla composizione in alto benissimo ora apriamo il contenitore di range selector e prima ancora di lavorare sullo start end e offset impostiamo l'intervallo non come square ma come ramp up quindi entriamo ancora nella sezione advanced e nel parametro shape anziché square rimettiamo di nuovo ramp up bene adesso decidiamo quanto largo vogliamo questo intervallo di interpolazione agendo sempre sullo start lo portiamo da zero e come abbiamo fatto prima circa 50 per cento tipo così e ora come prima faremo l'animazione solo sul parametro offset allora prendiamo il cursore lo portiamo al tempo zero all'inizio portiamo l'offset al suo valore minimo che è meno 100 per cento accendiamo l'orologio avanziamo anche in questo caso un paio di secondi abbondanti e portiamo l'end al suo massimo valore che è 100 per cento ora tutte le lettere sono prima dello start e quindi ritornano alla loro posizione originale se facciamo una preview le lettere cadono una alla volta benissimo ora proviamo a vedere l'effetto di questa animazione offset su qualche altra proprietà ma in questo caso non ricominciamo tutto da capo semplicemente eliminiamo la proprietà position all'interno dell'animator quindi la seleziono la elimino e aggiungiamo un'altra proprietà all'interno dell'animator per esempio la proprietà opacità quindi seleziono l'animator 1 vado nel suo menu add e dal suo elenco di proprietà aggiungo opacità e come prima dobbiamo soltanto decidere qual è la situazione iniziale dell'opacità delle lettere per esempio possiamo far sì che tutte le lettere all'inizio siano trasparenti e poi una per una si accendono quindi non facciamo altro che abbassare questo valore opacità da 100 per cento a 0 per cento e se facciamo una preview come vedete adesso una lettera alla volta il testo si accende e la lunghezza di questa sfumatura di accensione dipende dalla distanza dello start dall'end più lo start è vicino all'end e più è breve l'intervallo di passaggio fra situazione iniziale quella finale più è distante e più è morbido il passaggio dalla situazione iniziale a quella finale ma di nuovo lasciamo al 50 per cento andiamo avanti eliminiamo anche l'opacità e aggiungiamo adesso la proprietà rotation quindi di nuovo nel menu add vado nell'elenco delle proprietà e aggiungo rotation in questo caso per esempio potremmo far sì che all'inizio tutte quante le lettere sono capovolte e poi una per una tornano di nuovo dritte rivolte verso l'alto quindi la situazione iniziale la creiamo con rotation e mettiamo il valore a 180 gradi a questo punto tutte quante le lettere all'inizio sono capovolte poi una per una tornano di nuovo dritte come erano all'inizio in questo caso particolare magari facciamo in modo che l'anchor point di queste lettere anziché trovarsi alla base delle lettere sia al centro della lettera e come abbiamo visto nella lezione precedente per spostare questi anchor point si va nella sezione more option qua sopra e si agisce sul grouping alignment in questo caso il parametro verticale vedete che le crocette si spostano verso l'alto e quando sono a metà strada ci fermiamo ora facciamo una preview ok l'animazione esattamente quella che ci aspettavamo ma sicuramente sarebbe più interessante se oltre a girare su se stesse le lettere partissero da una scala zero in modo tale che all'inizio non le vediamo una alla volta si ingrandiscono appaiono e contemporaneamente ruotano e questo è possibile farlo semplicemente aggiungendo all'interno dello stesso animator anche una seconda proprietà scala in questo caso e impostando il suo valore a zero quindi andiamo di nuovo nell'animator da add aggiungiamo anche scale ecco qui la proprietà scale che si è messa a fianco di rotation e scriviamo zero a questa nuova proprietà scale quindi in questo caso all'inizio tutte quante le lettere hanno grandezza zero e sono capovolta in giù e poi una alla volta si ingrandiscono e ruotano facciamo una preview e addirittura potrei anche aggiungere la proprietà opacità in modo tale che le lettere oltre a ingrandirsi ruotare si accendano quindi sempre nel menu add dell'animator aggiungo anche opacità di nuovo porto l'opacità a zero e rapidamente ottengo questa animazione le lettere si accendono si ingrandiscono e ruotano contemporaneamente una alla volta e questo l'ho tenuto semplicemente impostando il valore iniziale senza mettere i keyframe a queste proprietà i keyframe vengono messi in questo caso una volta sola al parametro offset che è il vero responsabile dell'animazione delle proprietà che noi aggiungiamo all'interno di animator benissimo adesso però ci soffermiamo un attimo più attentamente sui parametri che stanno all'interno qui della sezione advanced perché ce ne sono alcuni interessanti però prima eliminiamo queste ultime proprietà che abbiamo aggiunto scale rotation e opacity e riaggiungiamo di nuovo la proprietà position e di nuovo creiamo quella situazione che avevamo creato prima cioè facciamo in modo che le lettere all'inizio si trovino tutte quante fuori dall'inquadratura quindi in quella posizione qua bene come vedete una lettera alla volta cadono verso il basso benissimo concentriamoci su questo secondo parametro based on che al momento è impostato su characters questo significa che l'animazione dalla situazione iniziale a quella finale avviene un carattere alla volta e anche gli spazi vuoti vengono considerati come un carattere quindi dopo l'animazione della n c'è l'animazione dello spazio vuoto poi la g la r la eccetera eccetera però noi possiamo fare in modo di ignorare gli spazi vuoti se scegliamo la seconda opzione di questo parametro qui cioè characters excluding spaces proviamo a questo punto vedete che la g segue subito a ruota dopo la n mentre lo spazio vuoto non viene preso in considerazione all'interno di questa animazione quindi una piccola differenza però risparmiamo il tempo dell'animazione degli spazi vuoti che non serve proviamo a vedere anche le altre opzioni se noi impostiamo l'animazione anziché carattere per carattere la impostiamo su words l'animazione avverrà parola per parola per cui prima scende tutto quanto motion e dopo un po graphics quindi se avessimo un testo con tante parole separate potremmo far entrare una parola alla volta se impostiamo questo based on su words proviamo anche l'ultima opzione lines e in questo caso siccome abbiamo un'unica linea di testo tutta quanta la linea scende contemporaneamente bene io però direi che in questo caso è più interessante avere l'animazione carattere per carattere però magari rimpostiamo questa volta la seconda opzione e tralasciamo di animare lo spazio vuoto vediamo altre proprietà interessanti scendiamo fino a easy eye e easy low queste due opzioni fanno quello che fa l'easy is sui keyframe servono ad ammorbidire l'animazione in partenza e in arrivo cioè l'easy eye serve ad ammorbidire la partenza per cui se io aumento questo valore vedete che le lettere tendono a stare più vicino al punto di partenza cioè partono più lentamente dall'inizio e poi accelerano dopo proviamo a mettere l'easy eye al massimo quindi partono lettamente all'inizio ma poi dopo arrivano molto più velocemente e forse in questo caso non è proprio la situazione ideale riportiamo l'easy eye a zero e se invece aumentiamo l'easy low al massimo facciamo il contrario cioè ammorbidiamo il momento in cui le lettere arrivano cioè le lettere quando arrivano alla posizione finale rallentano tantissimo proviamo a fare una preview vedete che adesso l'arrivo delle lettere è molto più morbido sicuramente molto più interessante dell'altra situazione quindi con l'easy eye e easy low posso ammorbidire la partenza o l'arrivo dell'animazione lasciamo pure easy low a 100 per cento e vediamo l'ultimo parametro randomize order che al momento è impostato su off questo parametro serve a rendere casuale l'ordine di animazione delle lettere cioè al momento le lettere vengono animate dalla prima all'ultima lettera ma se noi vogliamo che l'ordine di questa animazione sia del tutto casuale basta che accendiamo appunto questo parametro qua proviamo adesso che il parametro è on l'ordine di arrivo delle lettere è del tutto casuale proviamo a fare una preview il tempo totale dell'animazione rimane invariato soltanto che l'ordine questa volta è casuale ma naturalmente se non ci piacesse l'ordine con cui le lettere scendono dall'alto verso il basso possiamo anche modificarlo lavorando sul random seed e ogni valore che diamo al random seed corrisponde una casualità diversa per esempio io tengo questo qui e rifaccio una preview e quindi ho questa casualità qua benissimo però adesso reimpostiamo randomize order su off benissimo adesso un'ultima considerazione se io volessi un'animazione inversa cioè all'inizio voglio che il testo si trovi in questa situazione qua e dopo due secondi una lettera alla volta il testo esce fuori in alto come possiamo ottenerlo semplicemente usando l'impostazione opposta di ramp up che è ramp down adesso l'animazione funziona esattamente al contrario cioè all'inizio il testo si trova qui al centro della composizione e dopo due secondi le lettere escono alla fine il testo è tutto quanto fuori in alto facciamo una preview benissimo quindi anche per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima ciao